Sono stati sequestrati dai finanzieri del gruppo di Locri circa nove quintali di fuochi d'artificio destinati alla vendita e legalmente detenuti all'interno di un esercizio commerciale di un'abitazione privata denunciando tre persone con l'accusa di detenzione, commercio abusivo ed omessa denuncia all'autorità di materiale esplodente. Le fiamme gialle sulla base delle direttive impartite dal comando provinciale di Reggio Calabria e dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in occasione delle festività natalizie di fine anno hanno intensificato l'attività di prevenzione e repressione in materia di fabbricazione e commercio illegale di artifici pirotecnici. In tale contesto gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere l'assenza della prevista licenza di vendita dei prodotti stoccati in locali non conformi alla normativa vigente. Il materiale di fabbricazione italiana, albanese e cinese sottoposto a sequestro è risultato contenente un quantitativo netto di massa attiva polvere da sparo pari ad oltre 85 kg.